Il numero di Pogba attacca Pogba, cerca la percussione, poi scarica a sinistra il cross, in mezzo, Pereira, Pereira, salva Sportiello. La Juve porta sei giocatori a saltare, parte Pirlo, Sportiello. Con tutto l'angolo, parola verso Bonucci, l'anticipa Sportiello, che poi tiene ugualmente il pallone nonostante. Stretto retrocedere, Paselli rischia d'aversi in acquazzo, Sportiello. L'anticipa bene in fase difensiva, adesso però si prova Pogba, uno di quelli che può inventare, attenzione all'inserimento di Caceres, qua per lui, Caceres! Sportiello non si può sorprendere sullo suo palo. Grande riflessio di Sportiello. Paselli va in percussione a Tevez, lo attacca Migliaccio, ancora Tevez, alanga, Caceres, il prossimo secondo palo, Pogba, Sportiello! Grande azione della Juve, grande paranda di Sportiello. Grazie a tutti! Grazie a tutti!